Il solstizio d'inverno è vicino e la neve non ha deluso gli sciatori che stanno aspettando da settimana il momento di rimettere i piedi sugli scii. Anche se con qualche giorno di ritardo rispetto agli anni precedenti, il freddo e la neve stanno predisponendo le condizioni ideali per un Natale perfetto in alta quota. E proprio oggi è il giorno X, quello dell'apertura ufficiale della stagione invernale per diverse stazioni scistiche in Abruzzo, con decine di centimetri di neve naturale e artificiale su gran parte delle piste. Questa mattina riaprono gli impianti di Monte Magnola, dove è previsto il pienone per Natale e Capodanno. Anche gli impianti per l'innevamento artificiale sono attivi per far trovare piste perfette agli appassionati della neve. Gli operatori economici e turistici del territorio stanno registrando un vero e proprio boom di prenotazioni. La stagione sarà ricca di eventi, gare e manifestazioni. Anche a Pizzalto, tutto pronto per inaugurare la stagione scistica 2018-2019. Dopo la remogna da questa mattina, anche in questa parte del comune di Roccaraso, facente parte del comprensorio sciistico Schipass Alto Sangro, sarà aperta la seggiovia Esaposto e si potrà sciare sulla pista Paradiso e probabilmente anche su altri tracciati. In funzione invece da questa mattina anche la seggiovia delle gravare di sotto e la relativa pista. A Monte Pratello si procede invece con l'innevamento programmato. Tra le novità proposte quest'anno dallo Schipass Alto Sangro ci saranno le esclusive cene in baita, risalendo le piste col gatto delle nevi. Natale super imbiancato anche sulla maielletta. La neve è arrivata un po' più tardi rispetto all'anno scorso, ma comunque le previsioni meteo fanno ben sperare per una buona stagione. Non soltanto sci, a Pietracamela, in provincia di Terramo, la Scuola di Montagna, compagnia delle guide del Gran Sasso d'Italia, organizza per le vacanze di Natale una serie di escursioni guidate sulla neve, in alcune delle località più belle del Parco Nazionale del Gran Sasso. Boom di prenotazione all'alto piano delle Rocche. Da oggi inizia la stagione sciistica con l'apertura degli impianti anche a Campo Felice, dove sono previste gare e eventi per grandi e bambini durante le festività e sino alla soglia della primavera. Già partita sabato 15 dicembre la stagione sciistica a Campo Imperatore, dove nella giornata di esordio sono stati 500 lisciatori che hanno voluto assaggiare le piste aperte con gli impianti nuovi per la prima volta finalmente funzionanti.